la vedova winchester take 1 e la camera ma dai oggi solo qualità solo take sbagliati io penso che siamo sbagliato come la vedova winchester esatto subito tra vedova 1 di lì finita invece no io penso che siamo sul canale di insanity boys penso provo a guardarla si però ancora per poco ok quindi tagliamo corpo e siamo qui con la recensione di il commissario winchester no la vedova winchester mi è trovato un inganno allora finchè abbiamo visto sabato film io direi subito partiamo subito da un giudizio complessivo un film che poter parlare di un film deludente come la maggior parte dei film ma un film che potrà dare molto molto di più e io azzardo a dire che poter entrare anche nella storia dei film horror più belli perché si era contato bene e in maniera giusta aveva un tantissime cose su cui su cui aggrapparsi su storie vere storie finte e personaggi interessanti e se no lei cosa pensa di questo film in ambito espluo io è un film che in ambito espluo che non è riuscito cioè praticamente ci sono delle buone idee però ho messo giù molto male bene allora io cominciarei intanto con il non mi è ma ci è piaciuto ci è piaciuto? ci è piaciuto ci è piaciuto allora io direi col ci è piaciuto l'ambientazione ovvero la casa fino a un certo punto però perché questo film ha un grosso problema ovvero praticamente tanto il film tratta della storia alla fine della casa più infestata del mondo ovvero questa vecchia no sì questa casa che è diventata la dimora della vedova winchester ovvero moglie di suo marito se voglio me lo concedi ovvero il lidiatore dei famosissimi fucili che anche chi non è esperto di armi penso sappia cosa è winchester a meno che non conosce solo i simpson e pensa uè simpson comunque lei che non è d'accordo con questi fucili perché tolgono l'unica loro funzione quella di togliere la vita e infatti in questo caso sono presenti 500 stanze popolate se vogliamo comunque abitate da questo non è uno spoiler perché c'è anche l'interno abitate da tutte le vittime di questo fucile che siano in guerra che siano accidentali che siano un omicidio o un suicidio e quando queste vittime riescono a trovare il loro insomma le vittime quelle più incazzate esatto e quando queste vittime in queste stanze riescono a trovare il loro spiriti delle vittime bravo riescono a trovare il loro io il loro la loro luce la loro luce interiore il loro mantra riescono a abbandonare questa stanza ebbene morto un morto se ne fa un altro ovvero viene un'altra come si dice un altro spirito ad abita a questa casa e diciamo è in loop susseguirsi va avanti e queste stanze sono chiuse da 13 chiodi da un asse con 13 chiodi e questa è un po' quello che ti dice il trailer un po' ti fa capire le prime immaginette del film le prime scenette del film solo che il problema di questo film casa con 500 stanze ti fa di questa di questa casa mostruosa tra l'altro casa molto importante da dire casa costruita senza un'apparente logica ma alla fine una logica ce l'ha una logica apparente attenzione perché questa è un mini alarm spoiler cioè non è niente alla fine del non 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 alla fine della trama che nel talele si vedono queste scale fatte a labirinto che al fine servono per la vedova winchester interpretata magistralmente tra virgolette da elen miren perché lei ha un po' un po' di problemi di osteoporosi no scusate di artrite non di osteoporosi di artrite e quindi gli servono gli facilitano la salita quindi non sono state costruite a caso ma il problema è che ti giustifica solo questo non ci giustifica il fatto che c'è un armadio c'è una finestra dall'altra parte apri una porta e ci sono le scale così quella lì è giustificata cioè vabbè a parte le finestre fatte bene meglio insomma sì ti giustifica la creazione di certi tipi di stanze perché non sono non sono volute dalla vedova ma sono volute da questi spiriti esatto cioè praticamente i costruttori costruiscono quello che vogliono gli spiriti ma non quello che vuole la vedova esatto però mi dici che queste scale sono così perché la vedova ha l'artrite e quindi le facilitano la salita poi mi fai vedere un'altra cosa che c'è nel trailer le scale su e dopo c'è il tetto che lì aveva senso perché erano delle scale dove non si doveva salire in quel piano lì quindi ok va bene però nel senso mi giustifichi alcune cose non me ne giustifichi delle altre soprattutto cosa molto più importante che mi ha fatto avrabbiare 500.000 stanze 500 stanze me ne fai vedere due ovvero quella sopra alla fine quella finale la stanza del come si chiama di Jason Clark del protagonista e altre due ma altre due ovvero la stanza lo studiolo della vedo Winchester è la sala da pranzo ma me la fai vedere solo due volte qui non è che uno vuole vedere giustamente tutte le 500 stanze ovvio ovviamente no ma almeno un accenno di qualche stanza in più soprattutto non per esagerare soprattutto sarebbe stato interessante vedere una delle stanze abitate da un demone scusa da un demone da un morto nel senso potevano fare una bella scena di paura di una persona stupida che comunque nei film ci sta che entra nella stanza curiosando per vedere la stanza dei morti potrebbe essere interessante magari quando si cominciano ad aprire quelle camere lì per dire ecco quella scena lì ecco quello mi aspettavo poi comunque questa mi è piaciuta a metà comunque l'ambientazione comunque molto caratteristica molto originale e apro e chiudo parentesi questa casa è tuttora visitabile in california esattamente a san cos'è poi la storia della vedova quella mi è piaciuta molto ovvero una vedova che tra virgolette odia quello che vende ovvero i fucili infatti si vede nel catalogo Winchester che alla fine sono dei pattini che lei dice i pattini non hanno mai fatto male a nessuno tranne in questo film ho dei fucili molto bella la storia delle camere quella che ho già spiegato del del susseguirsi loop dei morti quella mi è piaciuta molto poi mi è piaciuto anche comunque il personaggio in sé il fatto che sembra molto come dire molto cupo molto severo molto invece comunque è molto è molto è molto diciamo si è è molto comunque emotivo diciamo un Elmino che un Elmino che riesce a fare il suo personaggio riesce a portarsi a casa il suo bel lavoro però però questo personaggio è un po' caricato troppo nel senso sempre vestito di nero sempre col bello davanti ma alla fine mi fa vedere che è molto emotiva molto apprensiva nel senso non lo so è un po' un'arma a doppio taglio lei che è vestita sempre di nero molto probabilmente per tutti i morti che ci sono stati per tutti i morti poi lei comunque è vedova e quindi persone di certa età una se la può giustificare in questa modo ci sta ecco nel senso ci sta infatti lo ho messo nel ci è piaciuto adesso c'è un problema però il fatto del ci è piaciuto è finito adesso c'erano tutte cose che non ci sono piaciute quindi sei pronto non ci è piaciuto non ci è piaciuto allora non ci è piaciuto il fatto che in questo film non c'era commissario Winchester che si vociferava e soprattutto il figlio era alto no allora non ci è piaciuto lo svolgimento della storia ovvero vi faccio subito un esempio e dopo vi spiego vi prego seguitemi Dunkirk a me come film è piaciuto ma c'è una parte centrale che non mi piace ovvero quella che si va avanti nella storia poi si torna indietro poi si va avanti poi le storie con bacio non mi è tanto piaciuta quella cosa lì e l'avrei fatto in modo diverso ma non so come perché è un film molto difficile da riscrivere no quindi avrei tolto quella scena lì ma non saprei non avrei saputo cosa aggiungere invece questo film qua l'avrei riscritto e avrei saputo esattamente come cosa riscrivere e dopo parlando comunque nel a metà primo tempo e anche con lui e con la regia e con altre persone che sono venute al cinema ho detto ma secondo te se questa cosa sarebbe stata meglio se questa cosa c'era nel film se questa cosa c'era di meno la risposta era sì quindi bene ovvero vado a spiegare molto meglio io a 20 minuti giuro dal film avevo detto secondo me sia i maggiordomi che i come si chiamano che i falegnami e falegnami abilissimi tra l'altro tutti quegli operai che lavoravano esatto erano morti un po' come dire alla il sesto senso percato me lo aspettavo dai comportamenti dei dai comportamenti degli stessi maggiordomi e dei stessi operai che non erano praticamente mai presenti facevano solo il loro lavoro nel senso non avevo mai battute solo due maggiordomi avevano battute ed è proprio quello che mi aveva fatto capire che forse erano morti perché comunque erano persone mono espressive un po' la Ben Affleck se vogliamo questo forse è il film dove Ben Affleck poteva dare il suo meglio però non c'era i due maggiordomi quello più vecchio e quello più giovane che dialogano con Jason Clarke quindi mi sarei aspettato una cosa del genere mi sarei aspettato appunto più utilizzo della casa mi sarei aspettato che a un certo punto la vedova ripeto sto seguendo la mia trama del fatto che tutti sono morti si ribella a tutti questi morti magari ipotizzo che lei era sottomessa da questi demoni e dover restare in quella casa lì si ribella grazie all'aiuto di Jason Clarke che riesce a ritrovare la sua come dire il suo anche suo anche dentro di lei la sua luce quindi non più veli neri che era una persona molto cupa comunque come ho detto prima ma si è aspettato un film così invece è un film dove dove non c'è niente di nuovo tra virgolette ecco io questo film in due parole potrei dire qualcosa di nuovo ma niente di nuovo ovvero molto originale la storia della casa che cambia continua a cambiare le stanze ma niente di nuovo nelle scene di paura niente di nuovo parliamo delle scene che dovevano fare paura esatto in questo film non c'è suspense non c'è non c'è probabilmente paura non c'è inquietudine ce n'è solo una ce n'è una forse quella del maggior spoiler c'è una scena di un maggior domo che se non vi spoiler comunque quella lì quella lì è bella perché è costruita bene c'è una costruzione di quella scena lì invece io odi jumpscare perché nel senso non è che li odio alcuni sono fatti bene tipo questo alcuni jumpscare ci stanno però se tu già dagli inizi del film cominci a mettermi jumpscare dappertutto capisco che il film andrà avanti così e dirò vabbè dai sto film già comincia ad essere è una merda cioè ragazzi effettivamente è così io volevo un po' salvarlo nel senso per dire che c'è una scena che è verso la metà quando diciamo è una scena quella è la scena più bella del film perché da quella scena lì si ribalta completamente la trama cioè nel senso il come si dice Jason Clark è l'attore protagonista capisce quello che sta succedendo la vedova comunque cerca di aiutarlo quindi c'è uno svolgimento nella trama quella scena lì è bella che è nata tutto da una jumpscare che lì è bello costruito c'è una storia dietro invece ci sono alcuni jumpscare quasi tutti esatto che si giocano malissimo tipo malissimo scusate tipo un certo punto allarme spoiler Jason Clark per sfuggire alla vedova Winchester nel senso sfuggire perché lei non voleva che si andasse in giro di notte per casa entra in una stanza guarda io per le scale musica a palla a un certo punto donna a caso che sale su per le scale paura io prendo paura ma nel senso cazzo chiunque prenderebbe a palla e proprio se adesso a un certo punto io ho cominciato a sudurlare a un certo punto io ho dei video adesso che comincio a parlare urlo a un certo caso è ovvio che voi prendete paura anche perché comunque voi lasciate lì non faccia paura a lei faccia paura alla musica che va a palla soprattutto in un film horror dove non mi crei tensione e mi metti tutti o quasi tutti i jumpscare a caso cioè stufano e anche tanto esatto anche perché se nel primo quarto d'ora aveva avanti così anche perché amici sportivi di 90esimo minuto dovete sapere che per chi ha visto il trailer c'è una scena che penso ha fatto cagare addosso a tutti ovvero quello dello specchio sì che io mi ero dimenticato esatto quello dello specchio se la sono giocata male se la sono giocata male nel senso che chi ha visto il trailer non può prendere paura con la scena lì perché appunto c'è nel trailer e arriva quella scena lì c'è un bambino e questa è una cosa che capita molto spesso nei film ovvero arriva qualcuno che ti fa paura cioè un bambino che dopo non si vede per tutto il resto del film che film ha fatto quel bambino lì perché ha fatto prendere paura lui e una visione era perché Jason Clarke in questo film nel senso fa il medico e fa uso di veleno e quindi ha delle di veleno un po' di droga sì esatto fa uso di queste sostanze quindi non so delle visioni è un po' deviato mentale nel senso deviato mentale per quello che è successo aveva la perdita della moglie cioè quel bambino lì non viene giustificato te lo buttano lì a posto e ha preso paura vaffanculo cioè alla fine dice vabbè allora uno dei tanti che infestano la casa però lo devi capire tu non è che te lo spiegano e non lo devi capire tu nel senso potrebbe anche non essere appunto potrebbe essere anche una visione non si sa quindi poi in quel momento si stanno anche insomma facendo quindi tu non capisci esatto appunto quindi alcuni jumpscare a caso alcuni nel senso tutti a parte uno poi abbiamo come già detto prima vabbè il pochissimo utilizzo della grandezza della casa che potevano potevano fare un film solo su questo poi abbiamo dei personaggi inutili se vogliamo come Sarah Snook che interpretava la interpreta la mamma del come si dice del bambino quello posseduto che io vi giuro me lo sto scherzando questo è un deficit mio alla fine del film ho capito che era la mamma e la sorella vi giuro che voi prendete questo personaggio lo otterrete dal film il film funziona comunque cioè funziona va benissimo perché si è al posto di quel personaggio lì nella scena finale spoiler dove loro Sarah sì Sarah Snow scusate la vedo a Winchester e Jason Clarke sono al piano di sopra e Sarah Snook e suo figlio sono al piano di piano proprio sotto 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 che stanno combattendo con con fantasmi differenti se quella scena lì il bambino era al piano di sopra e loro tre combattevano con lo stesso demone era la stessa cosa non cambiava niente e poi un personaggio che se tu lo prendevi di pacco e lo toglievi il film funzionava comunque poi c'è un personaggio che secondo me è deludente ovvero Jason Clarke deludente nel senso che io Jason Clarke non lo vedo in questi film io personalmente lo vedo in film non so più di avventura o più non so più d'azione in questo film non l'ho visto bene come dottore l'ho visto bene come drogato e persona che va tra oieco io l'ho visto benissimo come dottore l'ho visto male cioè non l'ho visto proprio bene aveva la faccia giusta quando c'era una scena di tensione ma non la faccia alla fine aveva più o meno la stessa faccia in questo film qua giustamente perché comunque non è un film dove si eviteva si scherzava però un personaggio non so un po' non so non mi è piaciuto come personaggio non so neanche come spiegavolo personalmente lo vedrei bene in altri film e poi ci sono personaggi raccontati male come il personaggio del bambino che durante il film mi fai capire che è un personaggio che dovrebbe essere fondamentale esatto esatto non importante è fondamentale ma alla fine non me lo fai capire tanto si va bene l'unica assonanza con il protagonista con l'antagonista finale ovvero il ovvero aspetta ovvero il demo il come si dice il caporale che ha perso tutta la sua famiglia suo fratello se stesso che quello lì era abbastanza interessante ma ha raccontato male come personaggio si nel senso quando il bambino girovagava per casa aveva il cappuccio in testa come il cappuccio che aveva l'antagonista scusate quando ha sterminato 15 persone con un attenzione 15 persone con un come si dice con un fucile Winchester con un fucile Winchester che di proiettini ne può prendere solo 3 spero che avesse i proiettini in tasca se no è errore in più il bambino praticamente viene utilizzato come cioè viene utilizzato da diciamo demon dal fantasma per colpire la vedova su un affetto caro per dire però non si sente assolutamente per nulla questo affetto per dire esatto si vabbè è la zia alla fine per il bambino si è la zia 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 ma anche perché zia 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 vi giuro nel film parleranno lei e il bambino due volte due ma forse a cena e un'altra volta non si sente quel legame assolutamente no quindi personaggio del bambino che sembra importante ma alla fine direi quasi completamente inutile e quindi un altro personaggio raccontato male insieme al maggiordomo che non si sa neanche perché era un maggiordomo alla fine perché era un maggiordomo l'antagonista dico il capovane non si sa perché era un maggiordomo beh sì c'è quello lì era per deviare un po' il personaggio del dottore che lui si presenta come maggiordomo però e questa è un'altra cosa che vi dicevo e questo è anche quello che mi ha fatto pensare che il fatto che erano tutti morti perché perché lui era un maggiordomo non so è l'altra persona che c'erano due maggiordomi alla fine magari anche l'altra persona era molto probabilmente era morto sì molto probabilmente era un fantasma quello lì però va a capire cioè quello lì lo vedi in due scene ti domandi ma sarà un fantasma boh e poi basta cioè quello lì quello lì non lo vedrai più cioè vedi il terremoto la casa che si istrugge ma quello lì non te lo vedi più esattamente poi poi ecco volevo anche parlare della scena del terremoto che nel film è fondamentale cioè nella storia vera perché questo film taratta una storia vera tra virgolette c'è la parte del terremoto che è molto fondamentale per la casa ma io nel film non ho sentito questo terremoto io pensavo vi giuro durante il film che questo terremoto era dovuto alla alla presenza demoniaca che la scena del terremoto viene quando il si scopre tutta la trama i personaggi quindi io pensavo il terremoto era la casa comunque infestata esatto invece no era un terremoto ma non è che te lo spiegano non è che ti dicono ho detto c'è un terremoto c'è la scritta che venendo un po' dice vabbè allora era stata per metà distrutta esatto poi altre due cose non ci è piaciuto tanti errori ad esempio in questa casa tutti vanno in giro con dei chiodi perché la vedo Winchester dice metti dei chiodi in questa porta ho capito non è che mi vanno in giro con i chiodi comunque gente che mette i chiodi alla porta gente che deve mettere 13 chiodi alla porta se siete solo un quindi ne ha messo solo uno gli altri non so dove siano finiti poi andando abbastanza velocemente abbiamo ecco per concludere dai diciamo così la scena finale molto sbagliata perché ti fa vedere che da un asse dove ci sono 13 chiodi cade un chiodo quello ti dice oh mio dio finale aperto forse fanno un sequel sequel di cosa tra l'altro cioè non serve sì nel senso è un sequel dove fanno la stessa cosa di questo film qua comunque ti dicono oh mio dio c'è un sequel dopo nella scena finale come nei migliori film dove ci sono dove è una storia vera ti fanno vedere le foto e le scarite finali soprattutto ti dicono che lei è morta nel 1922 se non sbaglio una cosa del genere che lei è morta allora mi dice una stranzata perché non mi fai un finale aperto e dopo mi dici che lei è morta perché sono due cose in contrasto soprattutto mi chiudi un film perché no c'è scritto solo che lei è morta che la casa è stata distrutta che è tutta ravvisitabile quindi mi vai già al presente se sei già nel presente però mi fai un finale che poi è aperto va a capire è aperto nel senso è solo una cosa che usano molto molto spesso nei film oro per fare quel finale secondo me secondo me ad esempio quando la fine vedi quel chiodo che si toglie da solo non vuol dire per forza che ci faranno un sigolo che secondo me non ha senso non ha senso farlo e non c'entra solitamente niente ma secondo me è giustificato perché comunque sta casa non era infestata solo da sto questo 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 fantasma qua ma comunque è infestata da fantasmi quindi magari ce n'era un'altra ancora più incazzata di quello lì solo che alla fine di questi film così ce ne posso fare 500 in un'ostanza alla fine si ma poi sempre la stessa storia esatto esattamente non ha senso ma comunque lei è morta quindi ecco una cosa che volevo dire che abbiamo ne abbiamo confermato tutti e due una delle scene che fa il più poco del film è quando va alla fine del film fanno vedere la sua fotografia che è uguale a Elen Mier è terrorizzante quella foto lì cioè terrorizzante perché poi vedi questa lechietta su stasera delle ratelle comunque foto degli anni venti bianco e nero che ha un certo aspetto comunque anche il signor è inquietante è la cosa che fa più povero del film quindi il mio voto per questo film è 5 e mezzo il suo io dico 6 ma vai dai sono buoni quindi iscrivete commento vedete guardate mi piace ci vediamo domani ok e come disse il commissario winchester 3 2 1 delete delete